Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Quattro giovani hanno perso la vita in un sinistro stradale che ha scosso fortemente un paesino alle porte di Roma, raggiunto nel cuore della notte dalla tremenda notizia del sinistro che si è portato via quattro ragazzi pieni di vita, che stavano per frequentare il primo anno di università. Dalla prima ricostruzione, pare che i poveri ragazzi fossero diretti a una festa tra amici quando, per cause in corso d'accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata contro un camion. A causa della forte velocità, la sua corsa è terminata contro un muro e i soccorritori del 118, sopraggiunti sul posto su segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio, non hanno potuto far altro che estrarre della lamiere, con l'ausilio dei vigili del fuoco, i corpi senza vita dei quattro occupanti. Poco dopo, sul luogo del sinistro sono giunti i carabinieri per gli opportuni rilievi di rito, utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che ha strappato la vita ai quattro amici. All'interno della vettura, gli uomini in divisa hanno fatto una clamorosa scoperta. Hanno di fatti rinvenuto diverse bottiglie aperte di alcolici. Ora sarà l'autopsia sui quattro corpi a stabilire se il consumo di questi ultimi sia o meno riconducibile al sinistro che non ha lasciato loro scampo o se, invece, sia legato ad un guasto o ad un colpo di sonno del conducente, o ad un malore. Ovviamente continueremo a seguire il caso, fornendovi i dovuti aggiornamenti non appena arriveranno i risultati degli esami autoptici.